E' sicuramente un segnale di attenzione da parte del Ministro, ci auguriamo che gli siano state offerte le giuste informazioni sulla situazione, anche se è abbastanza eloquente da sola, però le tende non dicono tutto, non dicono tutto soprattutto sulle soluzioni emergenziali che lo staff ministeriale sta ponendo. Io mi auguro di avere la possibilità di spiegargli, quanto gli abbiamo già detto in maniera molto veloce su, che Modugno e via Brigata Regina sono assolutamente insufficienti, e non solo sono insufficienti, ma rischiano di affossare ancora di più il problema. Noi insistiamo, li abbiamo già preannunciato, lui non si è sbottonato, ha detto che ne parleremo nella riunione delle 13, noi insistiamo però nella decretazione di urgenza che nomini un commissario plenipotenziario che possa dare veramente soluzione alla testa. Mi sembra indicato una soluzione più razionale. Guardi, penalizzati sono i cittadini innanzitutto, non soltanto gli avvocati magistrati, perché questa è una vicenda drammatica che investe dolorosamente la città di Pari. Le soluzioni sono tutte insufficienti se non si adotta la strada che noi stiamo indicando della decretazione di urgenza, perché soltanto con quella strada noi abbiamo la possibilità di andare in deroga e quindi di utilizzare gli immobili che sono a disposizione nella città, ma che hanno qualche problema di destinazione urbanisca che potrebbe essere superata dal commissario. Questo noi chiediamo fortemente. Voi magistrati state andando nella stessa direzione? Voi e i magistrati state andando nella stessa direzione? Assolutamente, la voce univoca da parte degli avvocati magistrati e personali di cancelleria. Anche adesso il personale è molto commosso, ha affermato il ministro e gli ha detto non ci dividete, perché il frazionamento degli uffici significa dividere le forze, le risorse, le uniche risorse a disposizione dell'amministrazione della giustizia, che sono i magistrati, i personali di cancelleria e gli avvocati. Se dividiamo questi soggetti diciamo la parola fine alla giustizia penale a Bari. Sul decreto avete avuto risposte?